Angelica è una giovane madre salvadoregna in Italia da diversi anni con figlio e famiglia che da quattro mesi svolge a Milano nel popolarissimo quartiere di Rogoredo un lavoro solo apparentemente uguale a quello di tante altre donne immigrate. Assiste ogni giorno tre persone, due anziane signore e Innocenzo che vive con la sorella e l'anziana madre. Vado da una signora per prepararla, che fa la fisioterapia, poi finisco un'ora, poi vengo da un'altra signora che l'aiuto a fare le pulizie, a fare quello che lei non riesce a fare e poi vengo da lui che lo accompagno in chiesa. Sembra una storia come quella di mille altre badanti, ma quella di Angelica ha una particolarità. Non è assunta dalle persone che assiste, ma da un'intera comunità. Tutto incominciò anni fa da un gruppo di famiglie che ebbe l'idea di raccogliere un fondo comune per far fronte alle necessità di chi in parrocchia era in difficoltà economica. Oggi quel fondo, in collaborazione con la cooperativa Bethlehem della Caritas, è stato trasformato in un vero e proprio stipendio in piena regola, che ha permesso di creare il posto di lavoro per Angelica e di offrire la necessaria cura ad alcuni anziani del quartiere. A questo punto abbiamo unito la domanda che poteva essere la necessità di bisogno da parte di alcuni anziani che non potevano permettersi, diciamo, un abbadante o un aiuto domestico con persone che volenterose volevano trovare un posto di lavoro ma purtroppo non riuscivano. È di grande aiuto per mio fratello e gli aiuta a affrontare meglio la giornata, la vita, lo stare insieme agli altri.